io che faccio? niente ma stai facendo? mi sono fuori ma registriamo il video facendo quello che vuoi tu 3,2,1 azione ma ti capite? siamo venuti a capoli e siamo venuti a attuare la cita eh, siamo venuti a matrimonio matrimonio non cita ma cita per non mesi ma cita con le seduce ah no c'è cita no cita con le seduce ma non ci salga ma cita ciao